Se hai appena acquistato una nuova fotocamera ci sono diverse cose che devi andare a capire prima di cominciare a utilizzarla. Oggi ti dirò otto cose che devi impostare subito sulla tua nuova fotocamera prima di andare a utilizzarla efficacemente. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografie di fotocamere ne ho tante e ci sono alcune cose che vado a impostare sempre sulle mie fotocamere nuove appena ci metto le mani sopra. Nel corso di questo video andremo a vedere le prime otto cose che mi sono venute in mente. Per altri video interessanti come questo io vi consiglio come sempre di iscrivervi al mio canale lasciate anche un bel like a questo video e andiamo a incominciare. La primissima cosa che dovete controllare quando accendete la vostra nuova fotocamera è la qualità di acquisizione. Le fotocamere e videocamere hanno diverse possibilità per quanto riguarda la loro capacità di acquisizione per cui si può catturare l'immagine a risoluzione piena oppure a risoluzione frazionata. Spesso e volentieri la nostra fotocamera ci darà la risoluzione piena ma una cosa che ho riscontrato su diversi modelli è che sono preimpostate per scattare in jpeg. Questo può andare bene ma di solito non è quello che vogliamo da una fotocamera di qualsivoglia fascia. Se vogliamo scattare in jpeg utilizziamo il cellulare la maggior parte delle volte e quindi se vogliamo avere la massima possibilità di personalizzazione e vogliamo scattare in RAW dobbiamo andare a impostarlo. La prima cosa che andiamo a fare su una fotocamera nuova è andare a selezionare la qualità. Quindi possiamo selezionare RAW e basta oppure RAW più jpeg oppure possiamo lasciare jpeg se è quello che volevamo. Proprio nel caso in cui ci interessasse il jpeg la seconda cosa che dobbiamo fare è andare a impostare spazio colore quindi andiamo a impostare srgb se sappiamo già che le nostre foto finiranno direttamente sul web oppure adobe rgb 1998 se pensiamo di voler modificare un pochino le nostre immagini prima di pubblicarle o se pensiamo che potrebbero anche essere necessarie per una stampa. Quindi questa è un'altra cosa di cui prenderci cura. Sempre se stiamo scattando in jpeg dobbiamo impostare anche un profilo colore. Le nostre fotocamere hanno diversi profili che possiamo selezionare. Avremo lo standard, il neutrale, il paesaggio, il ritratto, il vivido, il saturato. Avremo una serie di profili colore che possiamo impostare e che ci daranno un jpeg già processato in una determinata maniera. Possiamo anche andare a regolare un minimo queste impostazioni per farci un profilo personalizzato quindi per esempio possiamo crearci un profilo in bianco e nero piuttosto che possiamo crearci un profilo con la nitidezza aumentata o cose del genere. Una cosa che è molto importante è che andiamo a utilizzare questi profili se sappiamo che scatteremo direttamente in jpeg così abbiamo le foto già più vicine possibile al risultato finale direttamente in macchina. Parlando di video un'altra cosa importante che dobbiamo andare a impostare subito è il formato PAL o NTSC quindi dobbiamo decidere se vogliamo girare a 25 50 frame al secondo oppure se vogliamo girare a 24 30 60 frame al secondo. Ora il formato NTSC è vero che è quello americano chiamiamolo così però è vero anche che è il formato che ti consente di girare a 24 frame al secondo e a 30 frame al secondo. Ora il 99 per cento dei prodotti che noi tiriamo fuori finiscono sui social. I social sono americani, i social girano quasi sempre a 30 frame al secondo. Quindi è importante decidere questa cosa. Personalmente io utilizzo PAL quindi 25 frame al secondo solo ed esclusivamente se il mio prodotto deve andare in televisione. Se il mio prodotto, il mio video deve andare su una televisione italiana allora giri a 25 frame al secondo ma per tutti gli altri utilizzi. Che me l'abbia chiesto un cliente che vuole un video cinematico si usano 24 frame al secondo. Che me l'abbia chiesto un cliente perché vuole andare sui social si gira 30 frame al secondo. Quindi io di solito uso NTSC, non uso quasi mai PAL. Altre cose che è meglio andare a impostare subito sono innanzitutto il modo di lettura. Vi lascio linkato in card un video che ha avuto un discreto successo sui modi di lettura. Parlando di modi di lettura stiamo andando a definire come la nostra fotocamera andrà a leggere la scena. Per cui noi possiamo dire alla nostra fotocamera che deve prendere la lettura solamente sulla porzione centrale, quindi fare l'esposizione sulla porzione centrale, oppure se deve fare l'esposizione sull'intero fotogramma, oppure se deve fare l'esposizione su un'area centrale più grande però valutando 60% l'area grande e 40% l'area piccola fuori. Insomma ci sono diversi metodi che aiutano la nostra macchina a capire che tipo di scena sta osservando. A seconda di quello che stiamo facendo è importante che andiamo a selezionare un metodo di lettura che sia efficace per noi. Vi faccio un esempio se stiamo fotografando la luna, quindi luna bianca piccola così in un cielo nero enorme, è molto importante che andiamo a selezionare il modo di lettura spot perché così riusciamo ad avere una lettura precisa su quel tondino piccolo così che è la luna, in caso contrario avremo un'esposizione sempre sbagliata nel caso scattiamo in priorità o in automatico, invece impostando correttamente il modo di lettura abbiamo una lettura più accurata. Un'altra cosa molto importante da impostare è l'autofocus perché noi possiamo lavorare ovviamente in manuale, e lì il problema non si pone, ma anche nel caso lavorassimo in manuale sugli ultimi ritrovati è importante che andiamo a attivare il focus peaking per esempio, quindi se stiamo focheggiando in manuale col focus peaking vediamo visivamente a schermo dov'è il nostro punto di messa a fuoco, oppure le guide per esempio, le guide di messa a fuoco che ci sono sui sistemi Canon, che sono una cosa che personalmente trovo aiutino molto. Se invece stiamo scattando in autofocus dobbiamo andare a decidere che tipo di autofocus utilizzare. Per esempio io in questo momento sto usando l'autofocus con lettura dell'occhio, la mia fotocamera sta andando automaticamente a mettere a fuoco sul mio occhio, una feature che a me piace molto perché mi consente di fare delle riprese anche con una profondità ricampo molto ridotta come questa, però avendo la certezza matematica che la mia fotocamera andrà sempre a beccare il mio occhio, salvo ovviamente che io me ne vada dalla ripresa, in quel caso la macchina andrà a mettere a fuoco sullo sfondo perché comunque è una messa a fuoco che si adatta, è una messa a fuoco automatica che in qualche maniera riconosce la scena, riconosce le facce, riconosce gli occhi e quindi mi aiuta molto in questo senso. Ovviamente se noi stessimo fotografando una gara sportiva o un petti rosso andremo a selezionare una modalità diversa di messa a fuoco, se noi stessimo facendo ritratto classico in studio magari andremo a selezionare un altro tipo ancora, andremo a utilizzare il singolo punto di messa a fuoco come si faceva una volta, è una cosa che possiamo ancora fare. È importante andare a decidere come impostare l'autofocus perché così siamo padroni di quello che sta succedendo, altrimenti siamo un po' in balia degli automatismi della macchina. Badate bene, un'altra cosa che secondo me è importante impostare sono le informazioni di copyright. Non lo fa quasi nessuno, ma io ve lo dico sempre quando vado a farvi vedere il menu di una macchina fotografica, la maggior parte delle macchine fotografiche hanno le impostazioni di copyright. Questo significa che quando io scatto una fotografia, nei metadati della fotografia rimane scritto da qualche parte il mio nome e cognome, rimane scritto che quella è roba mia. Secondo me è importante impostarlo perché non ci costa niente e chiunque prenda le nostre foto non potrà più dire non sapevo di chi era. Ragazzo c'era nei metadati, io te l'avevo messo, se mi zanzi la foto io posso rivalermi perché c'era pure scritto nei metadati che era mia. La legge non ammette ignoranza se tu prendi un'automobile che era ferma sul marciapiede con le chiavi inserite dopo non puoi sostenere e non c'era nessuno e quindi pensavo che non fosse di nessuno. No, l'hai zanzata, non è che non era di nessuno, è che l'hai rubata, punto e basta. Per cui a noi non costa nulla, io vi consiglio di farlo. L'ultima cosa che vi consiglio di fare sulla vostra nuova fotocamera è di andare a formattare la memory card, formattarla in camera. Ho sentito molti che formattano la scheda sul pc e poi la mettono in camera. Non è la cosa migliore da fare perché la scheda è vero che poi va nel pc per scaricare i file, però quello è l'ultimo step. Innanzitutto la scheda deve scrivere i file e il modo migliore per preparare una scheda a ricevere i file dalla nostra fotocamera è di formattarla nella fotocamera in maniera tale che la memory card sia bella reattiva e sia pronta a ricevere correttamente i file dalla fotocamera. Poi in fase di lettura sul computer non ci sarà nessunissimo problema, però è molto meglio formattare la scheda in camera e anche per le fasi successive. Quando andremo magari a riformattare la scheda perché abbiamo finito il lavoro e quindi ormai è piena, è buona cosa riformattarla sempre in camera. Bene amici, con questo siamo arrivati alla fine. Queste sono grosso modo le prime cose che io vado a impostare su tutte le mie fotocamere nel momento in cui ne compro una nuova o nel momento in cui mi rendo conto che avevo dimenticato di impostare qualcosa anche su quelle vecchie. Fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate, fatemi sapere se c'è qualcosa che fate in maniera diversa o se c'è qualcosa in più che fate che io magari ho dimenticato perché capita anche a me di dimenticarmi le cose. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui successivi episodi. Ricordatevi che spesso e volentieri io rispondo con degli shorts verticali ai vostri commenti per cui se vi iscrivete non rischiate di perderveli. Io come sempre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.